una parola ma diciamo in Oriente dopo aver visto un fatto io ho visto un dabar un avvenimento dopo che il ragazzino dà la rosa alla fringuella noi diciamo il ragazzino ha dato un dabar una cosa alla ragazza dabar ha questi tre significati da qui noi riusciamo a ricomporre cosa c'era nel testo originale che è mai questo un dabar nuovo un dabar nuovo dato con autorità in ebraico questo lo si può dire senza difficoltà ma in greco Marco non ha avuto nessuna difficoltà a tradurlo come insegnamento ma riferito al fatto all'episodio Luca questo non può farlo assolutamente sta scrivendo in Grecia in Grecia non c'è questa mentalità allora ha girato la frase dicendo che parola dabar nel testo originale che parola è mai questa che comanda con autorità qui la parola non è più il fatto ma è ciò che Gesù ha detto per cacciare i demoni vi è chiaro? bene adesso che alcune difficoltà sono state messe da parte possiamo incominciare a capire il testo siamo al versetto 14 e 15 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione noi invece torniamo a casa o con la macchina o con il treno lui è tornato a casa con la potenza dello spirito non è che la potenza dello spirito sia una macchina un'automobile un mezzo di trasporto è che questo spirito sceso su di lui durante il battesimo permarrà per tutta la sua vita pubblica in lui Giovanni ricorda che nel momento della morte Gesù trasmette lo spirito a chi si trovava sotto la croce cioè a questi due personaggi che nel Vangelo di Giovanni rappresentano la Chiesa Maria Giovanni evangelista e le donne il gruppo di Giovanni evangelista e le donne rappresentano la Chiesa ma anche Maria Vergine rappresenta la Chiesa il testo greco dice trasmise lo spirito che qualche ignorantello traduce spirò no trasmise lo spirito vuol dire proprio ha donato lo spirito santo e muore dunque noi abbiamo qui un primo dato tutto ciò che avviene nella vita di Gesù è un'opera fatta da Gesù pieno di spirito santo guardate che non c'è differenza fra lui e noi solo che noi non ce ne accorgiamo anche a noi è stato dato lo spirito e guardate che senza lo spirito santo che abita in noi prima di tutto non si crede non c'è fede senza lo spirito nessuno dice Paolo può confessare Gesù Cristo è il mio Signore se non è lo spirito che lo sostiene in questa confessione di fede nessuno può operare all'interno della comunità se non è lo spirito che ha donato un carisma o più carismi al singolo credente non possiamo dire Padre nostro se non è lo spirito che ci sostiene in questa preghiera perché è solo lo spirito che grida dentro di noi Abba Padre potremmo farla lunga in questo elenco lo spirito è fondamentalmente quella realtà quel Dio la terza persona della Trinità che opera senza mai farsi vedere senza mai suonare la tromba però se manca lo spirito è un grosso guaio perché Paolo nella Lettere Romana nel capitolo ottavo dice che è lo spirito che ha risorto Gesù Cristo dai morti e lo spirito che opera in noi è per noi garanzia che risorgerà anche noi quindi la nostra speranza nella risurrezione non è fondata sui palloncini degli allocchi ma è fondata sull'esperienza dello spirito che noi facciamo perché quello spirito che opera in noi sarà colui che opererà la risurrezione in noi come l'ha operata in Gesù e siccome il compito dello spirito è quello di dare la vita all'inizio della creazione Dio crea l'universo con la parola è lo spirito in Maria Vergine è stato lo spirito a creare l'embrione chiamato Gesù è lo spirito che dà la vita al corpo di Cristo morto è lo spirito che darà a noi la vita con la risurrezione dei morti la seconda cosa che va sottolineata in questi versetti la trovate la linea 38 guardate il testo greco la seconda parola riuscite a leggerla è Didasken lasciate l'accento perché il greco è micidiale per gli accenti lasciate l'accento Didas Co è facile adesso se voi notate la prima opera che Gesù fa è proprio insegnare insegnare non è pregare strano vero? io vado da un prete perché magari ho dei dubbi o delle difficoltà e cosa mi dice la prima cosa che mi dice questo prete? prega ed è giusto per l'amor del cielo però se notate la prima cosa che Gesù fa come apostolato è insegnare 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 la preghiera è fondamentale nella vita del cristiano ma anche il conoscere il capire è fondamentale nella vita del cristiano la prima cosa che Maria Vergine fa è tenere a memoria e meditare comparare nel suo cuore questi avvenimenti con la parola di Dio per capirli noi abbiamo bisogno di capire il significato di ciò che avviene e Gesù insegna insegna perché la gente capisca capisca che cosa lo dirà oggi questa parola si è adempiuta e affinché sappiate che questa parola della profezia si è adempiuta io non solo insegno verbalmente ma insegno anche in maniera non verbale e con autorità perché capiate che il regno di Dio è in mezzo a voi questo è fondamentalmente il significato di questi primi due versetti proviamo a dare un'occhiata adesso vediamo i tre sommari quindi abbiamo visto 14 e 15 adesso vediamo il sommario centrale 31-32 poi scese a Cafarnao città della Galilea Galilea notate il tondino sarebbe il lago di Genezare quel punto blu grosso con la C lì accanto è Cafarnao Cafarnao si trova al nord del lago di Galilea proprio sopra lì a livello archeologico tra la fine dell'ottocento e il novecento tutto il novecento sono state trovate delle cose interessantissime pensate pensate che una suora una monaca siamo più o meno verso il quinto secolo a piedi dalla Spagna va in Palestina ed era una monaca culturata per cui lei scrive il suo diario e come ogni suora cosa scrive di monumenti no di certo scrive di altre monache scrive di riti celebrazioni avvenimenti e quindi noi conosciamo parecchio da questo diario di Egeria questo era il suo nome conosciamo i riti di Pisanzio ma soprattutto conosciamo bene i riti di Gerusalemme da buona donna curiosa lei va su in Galilea va a Cafarnau e dice che lì c'era un'antichissima chiesa una domus ecclesie che era costruita in maniera ottagonale c'erano otto lati era una chiesa a pianta centrale e dice ce n'erano tre una sopra l'altra la prima volta che c'è stato letto questo testo beh questa è una fantasia di una suora i padri francescani sono lì in palestina da quasi sempre da quando sono nati e sono i migliori archeologi molto più grandi dei cesuiti sotto questo profilo perché la stragrande maggioranza delle cose scoperte in palestina è dovuto ai francescani hanno scoperto queste tre piante ottagonali altri documenti hanno potuto confermare che lì sotto c'era la casa di Pietro e l'hanno trovata ed è interessante capire che la casa di Pietro non era una casa umile perché Pietro era un grosso imprenditore della pesca era una specie di ditta era una casa molto ampia e c'è anche una stanza particolare che è stata fatta oggetto di culto gli archeologi ci dicono che con buona probabilità quella era la stanza occupata da Gesù a Cafarna se andate in Palestina adesso anzi per essere esatti se andate in Israele perché Cafarna si trova nel territorio dello Stato di Israele voi vedete una bruttura hanno costruito sopra una chiesa pensile sospesa ci sono queste colonne a forma di barca che tengono sospesa una chiesa voi entrate su questa chiesa al centro della chiesa c'è un'enorme lastra di vetro cristallo saranoso e voi vedete l'ottagono e poi sotto la casa di Pietro ma è brutto è tanto brutto potevano benissimo lasciare le cose come le avevano scoperte senza metterci sopra questo cappello che non fa onore né all'arte né alla storia accanto a 40-50 metri circa c'è la sinagoga ma quella è bizantina è del quinto secolo quando voi entrate sulla destra mancano alcune pietre e si scende voi non potete ma se si va sotto c'è la sinagoga appestata da Gesù dove Gesù ha fatto questo episodio è di sotto quella che vedete non è dell'epoca di Gesù quella di Gesù si trova sotto il pavimento e se avete il permesso dello Stato di Israele si può visitare perché è pericoloso occorrono avere alcuni permessi ma si può bene poi scese il Cafarno città della Galidea e il giorno di sabato insegnava alla gente è interessante questo insegnare alla gente perché? perché normalmente i rabbini insegnano ai discepoli cioè a un'elite insegnare alla gente vuol dire perdere tempo vuol dire non formare una scuola e come notate a Gesù non mi interessava formare una scuola mi interessava parlare direttamente alla gente che non veniva apprezzata dai rabbini perché la gente non capisce niente la gente non è fedele alla Torah la gente si interessa e si disinteressa e Gesù invece dice no primo destinatario del suo insegnamento è la gente dove? nella sinagoga quando? il giorno di sabato perché? perché in giorno di sabato non si lavora quando la gente lavora non bisogna toccarla bisogna lasciar stare che lavori e quando la gente sospende il lavoro allora la gente è disponibile ad ascoltare l'insegnamento e Gesù di sabato insegna alla gente e come vediamo da tutto il brano insegna nella sinagoga non va a rompere l'anima la gente casa per casa insegna nella sinagoga lì dove la gente liberamente sceglie di andare è importante questo è importante perché il luogo naturale dell'insegnamento cristiano è l'omelia è il massimo dell'insegnamento cristiano i documenti del masistero dicono che il prete deve prepararsi e deve prepararsi bene per svolgere questo ministero e qualche volta bisognerebbe dare una mano ai preti bisognerebbe aiutarli a prepararsi perché dicono alcuni non tutti ringraziando Dio che non hanno tempo e allora se noi dessimo una mano a questi preti a fare alcune cose in modo che avanzi loro del tempo li aiutiamo a prepararsi è un insegnamento fondamentale voi pensate dieci minuti un quarto d'ora è già troppo dieci minuti ogni domenica ogni festa voi avete circa una sessantina di incontri all'anno sono tanti vediamo la giornata di Gesù al calar del sole tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a Gesù e gli imponendo su ciascuno le mani li guariva da molti uscivano anche demoni gridando tu sei il figlio di Dio ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo chissà perché Gesù ce l'ha a morte con chi proclama che lui è il Cristo e impone questo silenzio qualcuno ha detto beh perché erano demoni beh non è proprio così Gesù impone il silenzio per esempio ai miracolati Gesù impone il silenzio agli apostoli e Gesù impone il silenzio anche i demoni noi questo tema lo troviamo in tutti i Vangeli Marco Matteo Luca pochissimo in Giovanni come mai beh lo stile di Gesù riusciamo a capirlo quando vanno da lui i discepoli di Giovanni Battista e gli dicono beh sei tu quello che dobbiamo aspettare o dobbiamo aspettare un altro e se ricordate Gesù che risposta dà no dice guardate guardate che cosa i miracoli c'è chi vedono i zoppi camminano eccetera non dice non dà la risposta diretta dicendo si sono io non abbiate nessun timore tornate a casa tranquilli guardate i fatti e decidete voi cosa vedete la proclamazione di Gesù Messia non deve essere una proclamazione che sostituisce la presa di coscienza del singolo e la scelta che il singolo deve fare io posso benissimo dire Gesù è il Messia ma poi vi devo portare dei fatti e poi sarete voi a decidere se Gesù lo è o non lo è per questo Gesù rifiuta queste forme così diciamo eclatanti della proclamazione che un demonio dica tu sei il Messia diventa in qualche maniera costrittivo per chi è presente a credere in Gesù mentre la fede è sempre una scelta libera è una convinzione personale è un'acquisizione individuale entrare dentro in questa logica costa fatica oggi tutte le informazioni tutte le notizie sono urlate e a noi cristiani verrebbe la voglia di urlare anche il nostro cristianesimo soprattutto dopo i fatti che stanno accadendo cristianesimo non è mai stato urlato se voi notate le prime conversioni sono conversioni anche noi diremmo semplici il fatto di Pentecost è un fatto che meraviglia Pietro spiega il fatto dice è successo questo e la gente si converte la prima predicazione apostolica viene fatta nelle sinagoghe molto vale il dialogo interpersonale se voi vedete il capitolo ottavo Filippo dialoga con l'eunuco della regina Candace su un carro durante il viaggio tu per tu c'è la spiegazione del testo biblico poi c'è la conversione certamente noi possiamo anche mancare di presenza oggi i mezzi di comunicazione sono importantissimi essere presenti nei mezzi di comunicazione diventa fondamentale perché attraverso i mezzi di comunicazione che si insegna e guardate che lo spazio non è molto quello spazio vuoto che noi lasciamo viene occupato da altri che hanno tutt'altro tipo di insegnamento occupare dunque spazi nei mezzi di comunicazione per poter parlare della fede non è un fatto secondario noi oggi questo forse non lo riusciamo a capirlo bene adoperiamo i mezzi di comunicazione come momenti di svago e ne abbiamo bisogno adoperiamo i mezzi di comunicazione come momenti anche di informazione e ne abbiamo bisogno parlare di mezzi di comunicazione come mezzi di formazione cominciamo già ad avere dei sospetti sul tema però Stargate viene visto tutti quei programmi storico scientifici vengono visti e purtroppo non sempre sono corretti io ho avuto occasione di verificare come molti servizi che riguardano la storia antica soprattutto quella legata al mondo orientale beh si è fatta a spanne qualche volta è anche tendenziose ma se noi non entriamo dentro a questo mondo continueremo ad avere servizi fatti a spanne in merito a certi temi e tendenziosi guardate che è una cosa delicata la comunicazione attraverso questi mezzi perché se io ho un dibattito in cui cinque dicono blu e uno solo dice arancione il messaggio che passa è quello blu non è quello arancione e quindi il criterio dei mezzi di comunicazione sono gestiti con il criterio della volumetria quando il messaggio è voluminoso passa quando è minoritario non passa non dobbiamo mai dimenticare queste piccole leggi ma noi siamo pluralisti perché inseriamo dentro tutti sì 6 a 1 non so se sia una cosa corretta almeno 3 a 3 ma 6 a 1 capite che la cosa non funziona tanto più che oggi nella nostra mentalità la cosa grave è che vince il sondaggio di opinione e quindi la maggioranza nel sondaggio di opinione fa la verità e noi non dobbiamo mai dimenticarci che se tutti quanti ci mettiamo d'accordo nel dire che il pavimento è rosso il pavimento non cambia colori non resta verde non è la maggioranza che fa la verità è difficile capirlo perché viviamo in un mondo dove gli equivoci sono tremendamente frequenti sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto ma le folle lo cercavano e Gesù risponde non posso fermarmi perché è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche in altre città suo insegnamento dunque non è un insegnamento spiritualista o di saggezza nel suo insegnamento riguarda questo tema il regno di Dio noi oggi per poter capire questo messaggio adoperando un linguaggio contemporaneo dovremmo dire Gesù insegnava il mondo parallelo cioè esiste un altro mondo questo nostro mondo è uno ne esiste un altro la predicazione di Gesù l'insegnamento di Gesù era ruotante attorno a questo concetto esiste quest'altro mondo che è il regno di Dio lui l'ha chiamato così ed è un mondo dove la verità è verità la giustizia è giustizia non esiste la finitudine il male non c'è perché fino adesso lui ha dimostrato questo attraverso quanto dice a Nazare e attraverso quanto dice a Catarna cosa che vedremo subito adesso prendiamoci un caffè ci vediamo alle 11 meno 10 che vediamo a presto a presto a presto